Rocchino 83.16 con un'ottima valutazione di impressione artistica 33.46 e 25 di difficoltà stanno per entrare in acqua adesso per la società Busto Nuoto Alessia Macchi e Susanna Pedotti entambe classe 2004 coppia da seguire con grandissimo interesse il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 And I'm a little bit gay And I have 15 minutes And I just want to rest And I'm going to dance And I'm going to dance And I'm going to see I'm trying to be kind But I've seen much better now I love you I love you Bella la precisione di questa parte di routine Bella la parte coreografica Ma veramente impressionante La precisione degli angoli La sincronia Interessantissimo Da più la vista tecnico Questi ultimi secondi Da più la vista tecnico Dovino sguardo concentrato per quella che dovrebbe essere l'ultima parte di grande bella veramente una bellissima e anche difficilissima dal punto di vista tecnico l'inserimento di difficoltà avete visto anche l'apnea dell'ultima parte di gambe con spinta conclusiva c'era veramente di tutto una apnea così lunga portata alla fine dell'esercizio anche in questo caso sulle note di Cudelia de Mono sottolineata anche dal cappello la cucciatura della cucchia bianco e nera proprio come il film intanto abbiamo visto inquadrati i tecnici erano un po' interdetti Stefania Sperconi e Elisa Mondonico doppio che ovviamente qui è entrato con il massimo dei voti con la prima posizione nella parte conclusiva dell'eliminatore parlando del solo programma libero quindi è chiaro che l'aspettativa è altissima hanno fatto veramente una bellissima impressione dal punto di vista ripeto coreografico tecnico ma soprattutto della pulizia dell'esecuzione gli angoli gli accenti le posizioni controllate ben fatte e ti devo dire che infatti sul monitor di servizio è già arrivata non vi togliamo la soddisfazione 86 e 63 balzano nettamente al comando 34.93 come impressione artistica 25.6 per l'esecuzione 26.1 il coefficiente di difficoltà gustano attra